Ciao, sono il Dr. Max. Benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in Italia. In questa guida ti fornirà un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano. Nella lista troverai i nomi delle farmacie, i loro indirizzi completi, i numeri di telefono e codice della farmacia. Al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più avvicina a te. In questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a Palazzolo a Creide in provincia di Siracusa in Sicilia. Antica farmacia Lombardo SNC via Giuseppe Garibaldi 130 telefono 0931 8 8 2 1 9 8 codice 15683 farmacia Buongiorno Giuseppe Piazza del Popolo 15 codice 15.588 farmacia Furnari Luigi & Company SNC Corso Vittorio Emanuele 24 telefono 0931 8 8 2 4 3 4 codice 15.648 a Palazzolo a Creide non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento. Sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza. Ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più accomoda per le tue esigenze personali. Ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione, pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse. Il dottor Max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te e ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno. La tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura. Questo canale potrà esserti utile in futuro, ti consiglio di iscriverti, grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento.